la storia per spammare il mio profilo instagram nel video che uscirà domani sul team of the year quindi ignoratemi completamente perché sono pazzo ma domani guardando il video capirete tutto tutti sul canale non lo so all'una e mezza alle due quando volete insomma se non lo avete capito prendete il vostro cellulare e andate a seguirmi immediatamente su instagram trovate il link qui sotto in descrizione oggi volevo parlarvi un po' del team of the year dato che FIFA quest'anno ha deciso di rivoluzionare un po' tutto tutte le carte in tavola non mi andrò a parlare di come è stato scelto questo Totti perché lo sapete meglio di me gli altri Brails hanno fatto delle live hanno fatto dei video in cui spiegavano perfettamente hanno bombardato tempestato di messaggi il nostro gruppo WhatsApp e quindi circa sappiamo un po' tutto tutti però ci tenevo a dire la mia dato che secondo me non uscirà un team of the year all'altezza di quello che è stato veramente o comunque in grado di far capire quelli che sono stati i giocatori più forti dell'anno scorso uscirà un team of the year votato quindi da chi appartiene effettivamente alla community di FIFA un po' per i porci comodi nel senso che uscirà sicuramente The Gameporta invece che Buffon solamente perché attrae di più perché è spagnolo quindi ibridabili con la Liga o comunque con degli altri spagnoli e perché gioca in Premier League invece Buffon poverino gioca nella Juve gioca in Italia puoi farci quella squadra lì e basta non è molto giusto per quanto mi riguarda perché il team of the year deve essere la rappresentazione più fedele possibile alla realtà però questo è quest'anno FIFA ha deciso così e chissà che non vinca lei quindi oggi andrò a farvi un confronto su quelli che sono i miei nomi per il team of the year e andremo a vedere chi uscirà con tutta probabilità questa sera invece in maniera ufficiale sono di parte sì ma lo sappiamo benissimo però diciamo che Gigi e Gigi e l'anno scorso ancora una volta ha sfiorato ha toccato per poi tirare indietro la mano quella Champions che sta inseguendo che stiamo inseguendo noi tutti i tifosi della Juve che non riusciamo proprio ad afferrare con le nostre mani ma non ce la facciamo proprio quest'anno sarà l'ultima possibilità di Gigi di provare a vincere quella stramaledettissima Coppa perché poi si ritirerà e se il green non mi manda i messaggi mi fa un favore l'unico modo di vedere ancora Buffon tra i palli nella prossima stagione sarebbe quello di fargli effettivamente vincere la Coppa dei Campioni per poi andare a rispottare un mondiale per club comunque mi sembra assurdo non vedere Buffon con una carta blu in FIFA perché comunque è arrivato anche terzo mi parla nella classifica del pallone d'oro e quindi capiamo benissimo che se il primo è Ronaldo, il secondo è Messi, il terzo è Buffon il portiere più forte del mondo nella scorsa stagione non è Ronaldo, non è Messi, non è De Gea perché non c'è uno spazio qui in mezzo ma è per l'appunto Gianluigi Buffon mi auguro con tutta probabilità che possa uscire Marcelo perché l'anno scorso veramente Marcelo ha asfaltato qualsiasi corsia non so se vi ricordate il video in cui mettevo insieme i giocatori della Juve del Real prima della finale di Champions, c'era il dubbio Marcelo, Alexandro e ho detto metto Marcelo perché per correttezza credo che sia un pelo più forte ok, ho fatto così, ho fatto bene perché l'Alexandro di quest'anno non è l'Alexandro che tutti conosciamo e mi auguro veramente che possa uscire Marcelo invece che per dirne un altro a Spiliqueta anche se diciamo che nel team of the year non guardano esattamente i ruoli quindi possono esserci quattro centrali piuttosto che due centrali e due terzini o quattro terzini, insomma è un po' fatto così l'importante è che sia 4-3-3 comunque Marcelo è di un'altra categoria in questo momento è l'esterno più forte a livello difensivo di tutto il mondo e quindi mi sembrerebbe fuori luogo non farlo uscire team of the year e mi auguro che la FIFA possa far uscire proprio lui team of the year piuttosto che qualcun altro come centrale difensivo io metterei per l'appunto Leonardo Bonucci e a tal proposito aspettate un attimo perché vi faccio vedere una cosa io l'accessione di Bonucci l'ho presa con filosofia guardate qua questa è una maglia di Bonucci che non possedevo l'ho comprata da uno di voi da un mio fan che ho contattato tramite la mia pagina Facebook perché volevo una maglia di Bonucci e ho sfruttato il momento in cui era odiato o comunque è tuttora odiato per andarla a comprare a prezzo di saldo diciamo che la taglia non è proprio la mia perché mi pare che sia un XL però a livello collezionistico mi importava avere una maglia di Leonardo e quindi ne ho approfittato per riceverla per ottenerla non pagandola tanto perché comunque a me Bonucci ha fatto tanto mi ha dato tanto io ho dato tanto amore verso questo giocatore ed è tornato indietro tutto perché era uno dei pochi che lo difendeva all'inizio perché sono uno dei pochi che dice che non ha capito comunque la sua scelta perché forse la sua scelta non l'ha capita nemmeno lui di andare al Milan ma stiamo parlando di un grandissimo calciatore di un grandissimo uomo e mi manca mi manca tanto e quindi posso solamente consolarmi con questa maglietta rosa con il suo caro e adorato 19 sul retro tra l'altro Bonucci è uno dei più votati quindi credo proprio che uscirà lui stesso come Team of the Year anche se c'è in netta lissarietà asperiquietta ma credo proprio che non ci sia storia dato che l'anno scorso comunque il Chelsea non è che abbia fatto cioè ok ha vinto la Premier ma con calma arriviamo lì Bonucci è arrivato in finale di Coppa dei Campioni ha vinto la Coppa Italia ha vinto il campionato ha rischiato ancora una volta il tripleto ha fatto tantissimo parlare di sé in estate credo proprio che non ci sia storia a livello di realtà l'altro è Sergio Ramos e credo che sia uno dei pochi sicuro del posto e credo proprio che uscirà lui non ci spenderei neanche tante parole sopra il capitano del Real Madrid che negli ultimi 4 anni ha alzato per 3 volte la Champions League diciamo che davvero dobbiamo parlarne e uscirà lui fine punto giusto così a destra io invece ci metterei un altro che si è preso su e scappato via velocemente dalla mia Juventus dopo quella maledettissima notte e cioè Dani Alves sapete benissimo che è difficile per me parlare di Dani Alves perché l'ho adorato al Barcellona l'ho detestato alla Juventus ma riconosco che comunque la seconda parte di stagione di Dani Alves sia stata di un livello altissimo e irripetibile per quanto riguarda un esterno di destra dalla Juventus perché ha veramente fatto la differenza anche in Champions League mi ricordo che con il Monaco praticamente abbiamo vinto solamente grazie a lui con un gol e tre assist sui quattro totali tra andate e ritorno in una semifinale di Champions per un terzino di destra direi che è assolutamente da premiare da elogiare e credo che si meriterebbe ancora la carta blu anche quest'anno e al posto di Valencia che probabilmente uscirà Valencia io non capisco proprio perché uscirà Valencia non lo so sempre il discorso del gioca nel Manchester United gioca in Premier League ma davvero Valencia che non lo so il prossimo anno Gobbi Team of the Year centrocampo è un po' complicato perché ce ne sono tantissimi io davanti alla difesa però vorrei uno e un solo uomo vabbè che qua non c'è distensione dei ruoli ma io voglio fare le cose fatte bene quindi davanti alla difesa ci metto assolutamente Casemiro io Casemiro non posso assolutamente toglierlo perché credo che sia stato l'uomo in più del Real Madrid dell'anno scorso credo che sia quello che ha dato la marcia in più al Real Madrid a livello difensivo perché se poteva sprigionare tutto quel potere offensivo davanti è perché c'era un equilibriatore a centrocampo come Casemiro che addirittura ha segnato in finale di Champions uno che comunque di gol non dovrebbe intendersene tanto perché è un interditore un medianaccio eppure ci ha segnato e ci ha alzato la coppa in faccia pure lui probabilmente uscirà Canté al suo posto giustissimo perché comunque Canté è un giocatore super straordinario che negli ultimi due anni ha vinto due volte la Premier League con due squadre diverse per due volte il calciatore dell'anno in Premier League però devo dire la verità io considero un po' tutto secondo me Casemiro è nettamente migliore in termini di rendimento dello scorso campionato rispetto a Canté purtroppo non credo che tutti la pensino così ci sono tanti giocatori della Juve tanti giocatori del Real perché l'anno scorso principalmente ce la sono giocata loro due Modric uscirà per forza di cose mi auguro veramente che possa uscire perché Modric è un giocatore superlativo e fantastico se una volta o almeno quando sono cresciuto io si parlava di Pirlo eccolo qua guardatelo ce l'ho qui penso quindi gioco Andrea Pirlo credo proprio che voi della nuova generazione parlerete di Modric un giorno invece che del mio caro maestro del mio caro Andreino da Brescia guardate qua che bello che sei sono quei giocatori che ne asce uno ogni mille anni quindi è giusto è giusto metter lui ed è fortissimo quest'anno addirittura il 10 del Real Madrid la 10 quindi vabbè esce Modric come per Sergramos esce Modric il terzo slot è stato interessante in tanti stanno dicendo Dybala in tanti dicono Hazard in tanti hanno votato Cross e ci starebbe assolutamente e non è De Bruyne un altro che comunque ci sta perché è uno dei centrocampisti più forti in assoluto in questo momento e probabilmente uscirà De Bruyne perché è stato uno dei più votati ma io a centrocampo ci metto quell'altro che ha dato la marcia in più a Real Madrid di Zidane l'altra intuizione dell'allenatore francese che ha fatto dei miracoli praticamente perché ha detto a Bale mister 100 milioni guarda tu ti siedi in panchina e guardi gli altri giochi quando lo dico io perché in questo momento gioca Isco Zala trequartista esterno largo nel centrocampo a 4 l'ha messo dovunque perché Isco lo fa lo fa bene qualsiasi tipo di ruolo e credo che sia un giocatore che ha dato veramente quel pizzico quell'intuizione quell'uscire dalle righe che mancava a Real Madrid l'anno scorso perché era molto meccanico prima dell'ingresso di Isco perché comunque con Ronaldo e Benzema si andava sempre su per le corsie invece Isco anche negli ultimi metri se Modric se Cross non riusciva a inventare il passaggio perché che ne so la sera prima aveva mangiato una pizza arrivava Isco e la risolveva lui quindi assolutamente credo che il centrocampo debba essere tutto Blancos e addirittura lascio fuori Cross e sapete benissimo quanto io provo un'attrazione anche forse sessuale nei confronti di Cross andiamo davanti e come sempre vorrei affrontarli a gruppi perché Ronaldo e Messi non possono mancare lo sappiamo benissimo quindi mettiamoli lì mi sembra anche eccessivo parlarne ancora una volta lo ripeto perché magari questo dato non è abbastanza chiaro negli ultimi 4 anni la Champions è andata 3 volte a Real Madrid l'unica volta che non è andata a Real Madrid è andata a Barcellona e mi fa strano pensare che in tutto questo la Juventus ne abbia perso 2 quindi una con Real una col Barça ma questa è un'altra storia comunque Ronaldo e Messi sappiamo che hanno il monopolio assoluto di qualsiasi tipo di titolo trofeo riconoscimento di qualsiasi cosa e mi sembrerebbe stupido non metterli quindi Ronaldo e Messi Ronaldo che ha vinto il pallone d'oro anche quest'anno super strameritato che adesso ha agganciato Messi sarà interessante vedere il prossimo anno l'ultimo nome è stato difficilissimo perché io all'inizio avevo messo Neymar poi ci ho pensato un attimo ho detto ma effettivamente l'anno scorso il Barcellona non ha fatto benissimo e quindi non capisco perché metterci Neymar ci ho pensato attentamente e ho detto beh in effetti delle due si può mettere Suarez che ne ha fatti tantissimi però ancora una volta ho pensato e vabbè però magari ne ho vedere nel Real Madrid e c'era Benzema che non avrei mai messo in questa classifica poteva esserci Mbappé con tutto quello che ha fatto nello scorso al Monaco quello di buono che sta facendo adesso al PSG però no Di Bala è settato come centrocampista per qualche motivo ma comunque non avrei inserito neppure Di Bala e quindi ho detto chi ci può andare e la risposta è arrivata pensandoci attentamente e pensando ancora una volta alla Champions della Juve ma non quella passata ma quella futura perché quest'anno giocheremo contro il Tottenham dove gioca Harry Kane e devo dire la verità Kane si merita assolutamente lo spazio all'interno di questo Team of the Year vado a leggervi le statistiche in diretta per non sbagliare assolutamente Premier League 30 presenze 29 gol intanto così proprio per non saperne leggerne e scrivere e fake up 3 partite 4 gol insomma tutto a posto Coppa di Lega 0 partite e quindi ovviamente 0 gol UEFA Champions League 3 presenze 2 gol UEFA Europa League 2 presenze 0 gol ahimè qua non ha segnato per un totale di 38 presenze e 35 reti stiamo parlando di un giocatore in grado di competere con le medie gol degli altri due città di prima quindi Ronaldo e Messi cioè uno così uno che ha già vinto per due volte la scarpa d'oro cioè avete capito io mi esalto perché ho segnato 6 gol negli amatori questo ha già vinto due volte la scarpa d'oro e viaggia a livelli di rete di Ronaldo e Messi ora non so chi uscirà come terza attaccante potrebbe essere addirittura lui e quindi mettiamo il confronto tra loro due sarei contento di vederlo perché si riuscirebbe un attimo ad allargare gli orizzonti basta le solite facce basta Lewandowski basta Suarez basta Griezmann mettiamoci dei giovani mettiamoci chi segna chi fa gol e quindi niente questo è la mia idea di Team of the Year e spero che siate abbastanza d'accordo con me fatemelo sapere comunque qui sotto nei commenti fatemelo sapere su Instagram commentatemi sotto l'ultima foto o mandatemi dei messaggi in direct ai più interessanti rispondo sempre ma se mi scrivete delle cavolate come mi segui o mi saluti o mi metti mi piace ovviamente sapete già che verrete ignorati completamente vi chiedo uno sforzo cerchiamo di arrivare non lo so a 2000 like per questo video e qua sotto in descrizione come sempre il link per comprare i vostri crediti perché stasera esce il Team of the Year bisogna spacchettare e trovare qualcuno